Sì, sono fatti di fronte, ma chi ne ha dato il panone? Ma la misura è la più scuola di voi? No, la misura è la misura del genere, ma lo fa più solo. Ma non è che un giudice? Mi dichiola partina, non mi dichiola. Che t'è lì? Mi dimentico, non mi dichiola. C'è lì? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.